Il giorno sono nero benzinero, ma come c'è? Tu prendi tanto per il culo gli interisti e poi fai gol di mano e te lo convalidano? Come mai non ne parli amico mio? Grande Milan qua, grande Milan qua e te la sei rubata. Anche oggi non va bene, non va bene amico mio. Non va bene, non dovresti essere primo come non dovresti essere in Champions. Eppure sei primo e sei in Champions. Grazie a chi ha la grande gravina, la grande FGC, agli albitri. Bravo Giorosso Nero Benzinero, bravo. Non pensavo, non pensavo che potesse essere peggio degli interisti, ma lo siete. Arriva un po' tardi il video perché ero a mangiare, però me lo sono andato a vedere il gol, me lo sono andato a vedere perché avevo X e vedendo il gol ti posso dire che te la sei rubata, Giorosso Nero Benzinero. Sei un paiazza, un paiazza, come la tua squadra. Un bacione, iscrivetevi al canale.